È stato pesante, devo dire la verità, anche perché io forse come età sono quella più avanti, sono tutti uomini, io ero l'unica donna e quindi è un ambiente tipicamente maschile, ma diciamo la verità, è più difficile arrivare allo stesso traguardo di un uomo in questo ambiente. Per vari motivi, la fisicità, la forza, per me l'età forse anche, è stato duro, è stato molto duro. Per me è stato un mondo affascinante, interessanti, su cui prendere molti spunti, poi davano dei consigli che secondo me rimanevano molto in testa, soprattutto per me che arrivo da un altro ente di promozione sportiva, quindi qualche tecnica era un po' diversa, quindi abbiamo dovuto memorizzare noi quattro, portare la memoria muscolare ad acquisire le nuove tecniche che sono un pochettino diverse. non è stato facile, però mi è piaciuto lì, gli insegnanti mi sono piaciuti, mi pensavo se così di buono, non ho pensato, voglio dire la verità. Questa è stata l'unica sorpresa. 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 Grazie a tutti.